Presentato il programma del Festival dei Misteri a Campobasso, una rassegna ricca di avvenimenti che ricalca quella dello scorso anno alternando spazi commerciali, tradizionali, culinari e musicali. Una manifestazione che assume sempre più la rilevanza di un festival di caratura nazionale. Avvenimenti che si susseguiranno per tutto il mese di giugno. Il Corpus Domini è proprio questo, tradizionalmente alla sfilata dei Misteri è sempre stata abbinata a una grande fiera della città e quindi come lo scorso anno riproponiamo ovviamente sia la tradizionale fiera ma anche le attività legate alla promozione dei comuni limitrofi proprio perché Campobasso dà capoluogo, faccia da volano un po' su tutto il territorio molisano abbinando anche come lo scorso anno la degustazione dei prodotti tipici del Molise questo nel corso della città quindi affinché i visitatori abbiano l'impatto con la nostra cultura, con la nostra tradizione già al centro. Una serie di grandi nomi nel giugno musicale Campobassano. Sì, è un vero e proprio festival, consistente, tre giorni di musica conseguenti, venerdì, sabato e domenica pieno di grandi cose, Sergio Caputo, Mannarino, Fabi Fibra, DJ Uncino, Raiz degli Alba Megretta, Luca dei 99 posti, Zulu, Francesco Di Bella dei 24 grana, Simona Bo, Maldesto, insomma un sacco di cose belle secondo me, molto belle. Non è mai facile, c'è sempre una certa responsabilità nello scegliere poi in effetti perché si sceglie per la gente e non è facile perché non metti mai tutti d'accordo, però lo vedo come un bel cartellone, carrozzone non arrangiato ma molto equilibrato, Sergio Caputo, Mannarino, cantautorato, Fabi Fibra lo conosciamo, DJ set del sabato e il concertone della domenica a Piazza della Vittoria con questo Passione Live che è uno degli spettacoli più belli e concerti più belli a cui si possa assistere nel 2023 in Italia. Sarà presente anche una delegazione del FAI alla sfilata di Misteri. Il 16 di febbraio siamo stati a Milano per avere il riconoscimento del Fondo Ambiente Italiano che ci ha visti secondi a livello nazionale con il Museo dei Misteri e ci sarà una delegazione capitanata dalla dottoressa Armitaglio qui a Campobasso che visiterà il museo e vedrà la processione dal vivo.